Musica Telespettatrici, telespettatori di Rosini TV, bentornati, bentornati sul canale 80 del Digitale Terrestre per conoscere ancora meglio la Onlus Gulliver. Ma questa sera Valeria Gianni, che salutiamo subito, buonasera Valeria. Buonasera a tutti. Ci parlerà di un'iniziativa importantissima che si chiama Fiera del Riuso, che poi sarà spiegata in maniera dettagliata da Giovanna Cappellini. Buonasera. Ciao a tutti. Valeria Gianni, la Fiera del Riuso, una realtà che già da tanti anni è conosciuta nella città di Pesaro, ma vogliamo saperne di più, proprio attraverso le tue parole. Certo, allora sono qui per ricordare, ad annunciare al cittadino pesarese che tra qualche giorno faremo la Fiera del Riuso al Parco Scarpellini. Inizieremo il 30 maggio, 31 maggio primo e 2 giugno. Allora, per la Onlus Gulliver, la Fiera del Riuso è l'evento più importante in ogni senso, perché l'anno dopo la nostra nascita in qualità di associazione, insieme al quartiere abbiamo deciso di fare questa festa per le famiglie e per i ragazzini di Pesaro, perché venendo da un momento di crisi economica importante c'era bisogno di sorridere e di una presenza di festa. Il nostro quartiere Muraglia, dove siamo nati, ha questo parco meraviglioso che pochi conoscono e insieme, il presidente Andrea Boccanera e io, che sono l'altra parte dell'anima iniziale dell'associazione Gulliver, abbiamo deciso di fare questa festa basata sul riuso, riciclo e sociale. Quindi ogni cittadino ha la possibilità di essere mercante per un giorno, quindi svuotare le soffitte e dare e prendere gli oggetti che non utilizzano più per dare loro una seconda vita, ma più che altro è la festa dei bambini e dei ragazzi, dove anche loro sono mercanti per un giorno. Non vi nascondo che i ragazzini già dal periodo di Natale cominciano a fare i contenitori con tutti i possibili giochi che non utilizzano più, ma che magari per un altro bambino, essendo una novità, potrebbero essere utili o comunque possono ancora essere utilizzati per il gioco. Ma più che altro la Fiera del Riuso è anche l'occasione per fare sinergia con le altre associazioni di Pesaro, perché comunque Pesaro è piena di questa anima del volontariato, quindi perché no non fare sinergia e far conoscere, dare la possibilità anche ad altri di stare insieme su questo ambiente bellissimo come può essere il Parco Scarpellini. Stare insieme cosa vuol dire? C'è proprio un'interazione, vero? Esatto, esatto, perché cosa succede? Che il cittadino fa la sua bancarella e praticamente la gente ci viene a far visite e quindi nasce proprio un dialogo, uno scambio, poi è comunque ricco di spettacolo, sia a livello sportivo che a livello musicale, ma più che altro abbiamo anche la sinergia con le scuole, le scuole dove noi siamo nati, nelle scuole, e quindi anche i presi dell'insegnante fanno dei progetti che poi vengono, diciamo, espressi in questa fiera. Io stasera è qui con me Giovanna Cappellini, un'anima Gulliver, che io, fra virgolette, la definisco come direttora artistico, perché in ogni evento ci sono i direttori artistici, noi ne abbiamo uno speciale. Giovanna è nata con noi, ha sempre creduto nel nostro senso e ci ha sempre aiutato, insomma, a dare questa emozione. E quindi, nonostante anche il periodo Covid, che siamo rimasti fermi, poi abbiamo saltato un'edizione perché avevamo paura che ancora questa infezione non fosse finita e quant'altro, e abbiamo ripreso l'anno scorso e abbiamo avuto successo. E quest'anno è il nono anno e quindi siamo carichi, perché oggi come oggi manca questo sorriso. E noi lo vogliamo far venire fuori, sia con il buon cibo, sia con quello che faremo, insomma, come spettacolo e quant'altro. Giovanna, Giovanna Cappellini, ma cosa significa essere anima Gulliver? Significa, è una filosofia, una filosofia di vita. Il riuso, a mio avviso, in tutti i sensi. Alla Gulliver si riusano gli oggetti, si riusano le cose, si riusano le persone, gli si dà la seconda possibilità. Si vive in un ambiente sano, un ambiente che è sempre mosso dalla volontà di essere uniti. Si fa tutto insieme, si cresce tutti insieme, si lavora tutti insieme, ci si diverte tutti insieme. Questo è essere Gulliver. Senza tanti orpelli, gente vera. Beh, ce l'hai spiegato molto bene. Grazie. Ce l'hai spiegato molto bene perché ci hai fatto proprio comprendere questo concetto di condivisione, di mettersi insieme e di fare le cose insieme. Giovanna, quindi, dal 30 di maggio al 2 di giugno, quattro giorni intensissimi, dal giovedì alla domenica, un programma che tu, in qualità di direttore artistica, di questa fiera che possiamo definire anche festival, hai studiato nei minimi dettagli. Raccontacelo un po'. Allora, l'ho studiato ma anche questo l'ho condiviso perché proprio ieri sera ci siamo viste per aggiustare un pochino le cose. È un programma che prevede una serie di situazioni, di interventi, che sono interventi di carattere musicale, interventi di carattere teatrale, interventi di carattere sportivo, associazioni, attività per i bambini, animali, cibo, danza e chi più ne ha ne metta. Ed è, queste attività sono spalmate nell'arco di quattro giorni. Iniziamo con musica, con una giovane ragazza. Alice. Alice Putaggio. Dopo Alice ci sarà la sfilata che abbiamo organizzato con l'Istituto Mengaroni. Questo all'inizio del festival in pratica? E' una sfilata anche questa un po' rivoluzionaria perché noi sfileremo con gli abiti Gulliver, quindi sono abiti usati e quest'anno il tema non lo dico perché è una sorpresa, dico solo che sarà un'esplosione di colori e anche i nostri indossatori e indossatrici saranno delle persone speciali. Quindi i nostri volontari Gulliver, le nostre ragazze che sono nelle botteghe della Gulliver, ragazze con bambini che abbiamo conosciuto, che ormai anche loro fanno parte del nostro contesto, i ragazzi speciali della Gulliver, perché ci sono anche loro. E quindi una sfilata proprio con un concetto diverso. E poi termineremo la prima sera con un gruppo che si chiama Le Alcalina e suoneranno una band, fanno delle cover, anni 80-90. Il secondo giorno ci saranno le scuole di musica, la Sonart, poi ci sarà la Free Music Foundation come scuola di musica ed ancora avremo una scuola che fa Tai Chi, una scuola sportiva che si occupa di Tai Chi e un altro gruppo musicale che si chiama 005 e chiuderemo la serata con la Stella Show Dance che è una realtà diciamo ormai provinciale, è una scuola di danza che fa dal caraibico al contemporaneo eccetera e che coinvolgerà l'ambiente, scalderà il tutto. Questa è la seconda sera. Pensate Giovanna, ti volevo chiedere, ci saranno quindi degli spazi predisposti, preparati per le varie attività perché si passerà appunto dallo sport alla musica con continuità? Intervallati una mezz'ora, l'altra. Ci sarà una pedana e un palco e quindi si verranno intervallati. Una volta si balla, una volta si canta, una volta si recita, una volta si fa sport eccetera. Questo di continuo fino a sera. Il sabato sarà bello pieno perché avremo le scuole, avremo la Leopardi, poi mi sembra la domenica abbiamo la Gaudiano e avremo il Taken Doe, poi avremo i ragazzi del Parkour che sono dei ragazzi che fanno quelle cose bellissime che saltano ovunque. Quindi proprio sì sì sì. E termineremo, botto finale, con il Teatro Accademia che ci proporrà un loro estratto che si chiama Kung Girafni, il dialetto non lo so, è Kung Girafni. Insomma questo la domenica. Questo la domenica, sì. E poi il grosso chiaramente anche dell'esposizione di chi vorrà mettere a disposizione i suoi oggetti, le bancarelle. Quindi il tutto sarà quest'area del Parco Scarpellini che ricordiamolo è nel quartiere di Muraglia. È importante dirlo in modo tale che i cittadini sappiano dove andare. Sì, e tra l'altro proprio per questo senso di sinergia con la città, gli scout della parrocchia di Loreto li ho scordati. Faranno un murales nell'edificio dei bagni del Parco Scarpellini che sono inutilizzati. e faranno questo murales dove Holmes Gulliver farà loro la donazione per il materiale della realizzazione e lo inaugureranno proprio sabato verso le 15, 15 e 30 in occasione della fiera. Questo è l'esempio che Gulliver è comunque una grande cosa perché siamo tutti insieme, non abbiamo diversità. e quindi fare sinergia anche con questi ragazzi, con la parrocchia, dà gratitudine. E quindi credo che sarà un bel momento. Una grande festa. Giovanna, ti volevo chiedere anche, più o meno a che ora si comincia la mattina? Allora, i cancelli si aprono alle 10. Alle 10? A parte il giovedì che sarà la giornata un attimino di assestamento, anche perché le persone devono entrare. Poi dalle 10 fino alle 10 di sera. E si potrà anche mangiare? Si potrà mangiare e ho scordato prima che il sabato e il venerdì avremo anche alle 11, a mezzogiorno, due interventi, due conferenze. Una sull'ambiente e sul bullismo e un'altra sarà un dialogo sull'educazione delle persone e la scuola con due personaggi di peso, pesaresi, che per adesso non dico ma ci teniamo molto. Due persone insomma di spessore, diciamo. Di spessore con le quali si affronteranno temi importanti, perché hai già menzionato tema importante come quello del bullismo, chiaramente è rivolto anche nella volontà di accrescere l'offerta culturale. Sì, assolutamente. Perché è importante parlare, credo, di tanti temi, no? Che poi sono quelli fondanti della vita di tutti i giorni e che concorrono tantissimo anche alla volontà di Gulliver di essere inserita nella nostra società. Antonio, scusami, volevo aggiungere una cosa, stavo per dimenticare la persona, forse una delle persone più importanti della nostra fiera, che è Davide Cerio, che io lo definisco il one man show, che praticamente è il collante di tutto perché lui ha questa sua postazione che è al lato del palco, da dove parla di continuo anche nei momenti dei cambi tra uno spettacolo e l'altro, dove intervista le persone, da dove dispensa sorrisi, eccetera. Ed è veramente una persona che ci ha risolto tante situazioni e che saluto con tutto il cuore anche a nome di Valeria e di tutta la Gulliver. Valeria, sei emozionata da questa fiera del riuso, dalla non edizione? Insomma, insomma, perché comunque... Questa è la maglietta che sarà, esatto. Allora, Gulliver è sempre un'emozione, perché ogni evento ha la sua particolarità, ma la bellezza è che in questo evento ognuno ha la libertà di essere se stessi, nel senso che qualsiasi cittadino che viene ad allestire la sua bancarella si diverte nell'organizzarla, nell'assemblarla, nel dargli una visione particolare in base agli oggetti che ha. Comunque ci lavora proprio, ci lavora proprio. E quindi è una bella cosa, perché in questo contesto verde, in questo contesto di presenza... C'è sempre, ecco, proprio su questo, c'è sempre anche tanta partecipazione, vero? Sì, sì. Cioè, anche magari di cittadini che vengono un po' incuriositi. Allora, la fiera del riuso, secondo me, è diventata un po' l'evento di Pesaro, anche perché a livello gestionale è molto complessa. Quindi, quando noi andiamo alla ricerca dei volontari, perché quattro giorni, dalla mattina alle sei, alla sera, a mezzanotte, perché non guardiamo solo il momento degli ospiti, ma c'è il pre, il durante e il dopo. Come sempre. E comunque, il parco, essendo grandissimo e molto contenitivo, la gente viene, anche è giusto per assaporare il profumo della natura. No? Certo. E quindi, noi dei volontari ne abbiamo bisogno. E quindi, facciamo questo a passaparola, questo richiamo, e ce ne sono tanti che partecipano, col sorriso la voglia di fare. E comunque... Come se fossi tutti i giorni con noi. Ecco, trovarli significa anche che c'è sensibilità, poi, in tante persone. Sì. C'è tanta sensibilità. Sì, ma anche perché, come dicevo prima, siamo tutti i giorni in questo vortice del fare, ma ci sfuggono dei momenti di tranquillità. E allora, vedere le famiglie che stanno sul plaid, nella collinetta, mamma, papà e bambini, lì, a non pensare a nulla, a guardare il cielo azzurro e sentire la musica in sottofondo, o un insieme di amici che si bevono una birra, tranquilli, a ridere, a scherzare, da gusto. Sì. Abituati tutti i giorni, no? All'inquinamento, allo stress, ai problemi, ai figli, al marito, alla casa. Un po' di relax ci vuole. E la Fiera del Riuso, secondo me... Infatti è bello anche questo nome, che si chiama Fiera del Riuso. In realtà potremmo anche definirla Festa del Riuso. Festa, è una festa. È una festa, come dice Giovanna. Sì, è una festa. Valeria, come si partecipa? Andiamo alle... per concludere proprio le questioni, chiamiamole tecniche. Tecniche, allora... Io voglio partecipare, come faccio? Esatto, allora, praticamente per partecipare si va sul nostro sito o nella pagina Facebook, Allus Gulliver, dove c'è allegato il regolamento, si scarica e si compila con i dati personali, perché comunque la burocrazia... Quindi la scheda di partecipazione è nel regolamento. È nel regolamento e noi abbiamo richiesto un contributo a chi fa le bancarelle, perché comunque è una fiera complessa anche come costo economico. e quindi abbiamo richiesto gentilmente un contributo di 30 euro per un giorno e 90 euro per tutto l'evento, perché noi speriamo che la gente stia lì con noi a farlo, a costruirlo e a viverlo. E, diciamo, i cittadini dovranno arrivare presto e chiedo sempre gentilmente di aver pazienza, perché a seconda delle adesioni noi dobbiamo sistemare il parco, perché il parco deve essere perfetto in tutti i suoi, diciamo, aspetti, soprattutto quello della sicurezza, quindi lo dividiamo in reparti e ogni cosa deve essere al posto suo. Per quanto riguarda il parcheggio abbiamo riservato una zona dove i cittadini che fanno l'esposizione possono mettere la macchina e sarebbe meglio che si premonissero di un carellino, perché comunque prima dell'eventuno, finché non finiscono tutti gli spettacoli, il parco deve essere in sicurezza, quindi non si può passare con le macchine. E quindi, niente, diciamo che la domanda abbiamo riservato un indirizzo Facebook Fiera Regionale del Riuso oppure www.festivaldelriuso.com ma comunque per qualsiasi delucidazione più precisa possono chiamare al nostro numero dell'associazione che è stampato nel nostro sito e anche nella nostra pagina Facebook. Perfetto. E quindi, diciamo, siamo stati più precisi possibile. Ovviamente i bambini non pagano, perché per loro deve essere un gioco, è un momento per scambiare le emozioni con i propri coetane. Perché anche i bambini hanno l'opportunità di fare, chiamiamolo, un mercatino loro. Sì, hanno proprio un'area riservata dove stendono le coperte e ognuno fa la sua bancarella con tutto e di più, Barbie, Big Gym, Puzzle, macchinine, qualsiasi cosa, decoupage, ci sono anche le ragazzine che fanno dei lavoretti tipo con la carta pesta, cioè è il massimo della fantasia. Bellissima. Allora, ricordiamo le date dal 30 maggio al 2 giugno al Parco Scarpellini del quartiere Muraglia di Pesaro, la fiera, o noi l'abbiamo definita, Festa del Riuso. Poi colgo l'occasione per dire che alla fiera del riuso partirà un progetto importante. Bellissimo, questo è veramente bellissimo. È proprio nato oggi e quindi sono orgogliosa di renderlo pubblico. Allora, praticamente Onlus Gulliver, insieme al Comune e insieme ad un'associazione sportiva che si chiama Boom Basking Pesaro, faremo una raccolta dei Lego. Allora, cosa intendo? Se i bimbi hanno dei Lego che non possono più utilizzare o comunque i bambini sono cresciuti e ce li hanno nel cassetto che fanno confusione tutti quei piccoli pezzettini senza senso, alla fiera del riuso noi metteremo un contenitore con un manifesto appropriato e faremo questa grande raccolta. Tutto il materiale che riusciremo a recuperare nel tempo verrà destinato ad un'associazione marchigiana la quale realizzerà delle pedane che serviranno per dare la possibilità alle persone disabili, soprattutto con le carrozzine, di entrare in qualsiasi negozio che ne faccia uso. Quindi anche abbattere quelle barriere archittoniche che molte volte sono fastidiose, no? Una pedana di legno o di cuoio magari ti fa sentire diverso. E allora realizzano queste pedane con tutti dei pezzettini dei Lego, ovviamente a norma, che verranno fornite a tutti i servizi di Pesaro, che siano ristoranti, qualsiasi situazione dove c'è uno scalino da superare, dare la possibilità a quella persona comunque speciale di entrare nel negozio e comprare quello che vuole, dove prima non poteva farlo, comunque aveva belli imbrogli per entrare, vedremo insomma di poterlo rendere felice. Beh, pensate, questa è una cosa davvero importantissima. Le barriere architettoniche, la possibilità di dare a tutti la sensazione di non sentirsi disabili, perché questa in realtà è la finalità, il messaggio che si deve arrivare, deve arrivare pur conoscendo perfettamente la realtà, ma una società che si pone l'obiettivo di far sì che la disabilità diventi una, fra virgolette, permettetecelo, normalità, è davvero questo l'obiettivo che dovrebbe essere. Quindi davvero un merito a Gulliver per questa iniziativa bellissima realizzata con i Lego. E soprattutto anche un grazie al Comune e all'Associazione Basking Boon, che ci hanno interpellato, perché noi essendo nel mondo del riuso e riciclo, hanno fiducia sul nostro operato e mi hanno chiamato e mi hanno chiesto voi siete d'accordo? Ho detto perché no? Ho detto facciamo l'evento delle famiglie, quindi qual è la migliore occasione di creare un contenitore, fare pubblicità e quindi se bambini avete dei Lego a casa che non utilizzate sappiate di venire alla sfera del riuso e quindi stiamo tutti insieme e cercheremo di rendere felici chi è meno felice di noi. Certo, anche considerate che il basking è quello sport bellissimo che mette in condizione tutti senza differenze di giocare a pallacanestro. Esatto. È davvero inclusivo al 100%. Esatto. Come, Valeria, volevo concludere in questo modo, Gulliver è inclusiva al 100%. Noi ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo tutta in bocca al lupo, sperando che ci sia bel tempo e quindi tutti possono venire al Parco Scarpellini con noi a divertirsi e fare delle belle cose come questo progetto qui e sosteniamolo perché è da qui che si parte, da un piccolo Lego. Bravissimo, da un piccolo Lego e a partecipare anche a tutte le cose belle che sono state organizzate da Giovanna Cappellini. Grazie. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno, Parco Scarpellini del quartiere Muraglia di Pesaro con la Fiera del Riuso. Continuate a restare su Rossini TV. Buona serata a tutti. Grazie.